La parola di Dio che abbiamo ascoltato è un pochino spiazzante su molti fronti, intanto perché mette dentro tutta una serie di contrasti che dobbiamo guardare un attimino poi nel corso di questo nostro ragionare, ma soprattutto per un elemento, perché parla del futuro mettendo dentro tutta una serie di situazioni anche faticose, drammatiche, di lotta, combattimento, distruzione dei riferimenti che noi conosciamo, ma ne parla con speranza. E noi invece siamo in una situazione dove la speranza è merce rara, dove tutte le volte che si pensa al futuro non si riesce a pensarci seriamente. La maggior parte delle persone ormai non pensa più che davanti a noi sta qualcosa di meglio, si butta lì dicendo vabbè speriamo che cambia questa roba qui, ma dentro pochissimi ci credono. Ora di fronte a questa parola che invece continua a dire sperate, guardate che la fine del percorso è una fine che è assicurata da Dio, non dal vostro agire, ci lascia sempre un po' perplessi, perché noi invece vediamo la fatica, vediamo i limiti, vediamo le situazioni che si ingarbugliano, le relazioni che non funzionano, una società che fatica a decollare. Sembrano due cose così lontane, una dall'altra, ma la cosa strana dicevo è che in realtà non è che la parola del Signore che ci è stata rivolta questa sera è una parola tutta, sai, di quelle rosate, ma no in fondo è tutto bello, in fondo guarda che meraviglia, i fiorellini continuano a spuntare, no no, continua a dire ci sono le situazioni faticose, già combattere una battaglia si dice espressamente nella seconda lettura, bisogna indossare le armi della luce, perché quella che abbiamo di fronte è una battaglia vera, non una rovetta così, e di fronte alla conclusione del percorso in realtà c'è comunque un appello alla responsabilità, vegliate, certo poi è strano nel nostro modo di pensare perché in fondo Gesù continua a dire vegliate e state pronti, ma comunque vi becca di sorpresa, che è una cosa interessante perché smonta il nostro modo di pensare le cose, cioè voglio dire nella nostra testa noi o siamo disattenti, allora siamo colti di sorpresa, ma se siamo attenti e stiamo aspettando, allora no, non è così, il Vangelo dice state attenti, vegliate, rimanete nello stato di chi sta aspettando, comunque tranquilli, alla fine arriverà qualcosa che non vi aspettate, in un modo che non vi aspettate, in un momento nel quale voi non pensate che debba accadere qualcosa, che è interessante perché in fondo la parola di Dio prende la nostra insicurezza e la trasforma in una opportunità, prende la nostra fatica di tenere insieme i pezzi, di costruire, di andare avanti e ci dice guardate che questa è una cosa bella, la parola di Dio ci assicura la fine del percorso, ma tutto quello che sta in mezzo tra adesso e là è sottoposto a una serie di variabili infinite, può succedere di tutto in un modo o nell'altro, possono esserci cose belle e cose che noi riteniamo brutte, possono esserci mille accadimenti diversi, ma la parola di Dio mi dice guarda la fine del percorso stai tranquillo, ce l'ho in mano io, non dipende da te, dipende da me. E nel momento in cui noi abbiamo questa certezza, capite che allora il nostro modo di affrontare questa situazione, ma qualunque situazione di fragilità, di impossibilità di determinare le cose, di deciderle, di costruire secondo i nostri criteri, non diventa più una cosa brutta, diventa una continua sfida, un continuo essere richiamati a una novità. Guarda un po', è successa questa cosa. Adesso come rispondo? Non importa che cosa intesta io per dire volevo arrivare là, volevo arrivare dove? Dovevo arrivare lo sai già e chi ci arriverà e lo sai già. Adesso rispondi a questo. Qualcuno ti fa una domanda, c'è una situazione della vita che ti interpella, c'è una situazione sociale che chiede una risposta, c'è un... ad ogni situazione si cerca di rispondere nel modo migliore, con piena libertà, ma capite che questo diventa all'improvviso qualcosa che ci consente di relativizzare tutto, ma di trasformarlo proprio per questo in una cosa bella. Relativizzare è una parola che noi usiamo in modi diversi, ma relativizzare in senso stretto vuol dire mettere in relazione con qualcosa, vuol dire che non è il tutto, è una realtà che è comprensibile solo in relazione a altre realtà e ad una realtà in particolare che in qualche modo fa da perno di tutte le cose che io ho, conosco e vivo. Relativizzare tutte le cose per noi vuol dire non dire che non ci interessa niente, perché sarebbe una cosa stupida, non è che non ci interessa di arrivare alla fine del mese o di affrontare certe cose, voglio dire sono cose importanti, ma tutte relative, tutte cioè da vivere in relazione con il Signore Gesù. Se io metto Lui al centro e attorno costruisco la mia vita, le situazioni e affronto le cose, allora cambia la prospettiva. Allora imparo davvero ad aspettare e attendo con gioia. Il tempo dell'Avvento torna ad essere quello che dovrebbe essere, appunto il ricordo di un grande incontro che noi abbiamo di fronte a noi. Guardando al passato, alla nascita nella carne del Signore Gesù che celebreremo nel Natale, noi in realtà siamo rimandati al futuro e aspettiamo il suo ritorno, vogliamo incontrarlo noi, non solo aver sentito di qualcuno che ce l'ha raccontato, ma di fronte a noi sta l'incontro con il Signore. Allora questo nostro camminare, questo nostro vivere l'Avvento, questo nostro affrontare la vita relativizzando tutte le cose, perché l'unico centro è Lui, ci consente di cambiare il nostro stile, di vivere come persone libere, che non significa, lo ribadisco, che non mi interessano le cose, anzi, mi interessano di più, perché non c'è niente e non c'è nessuno che può diventare l'assoluto, io, men che meno, ma neanche le cose o le persone che stanno attorno a me. Tutte sono relative a Cristo, tutte sono da comprendere dentro questa trama di comunione che è Cristo. Allora il bello di questo tempo d'Avvento è che ci richiama al fatto che possiamo sperare, che sperare non è un lusso e non è neanche una fantasia per, sai, nonnine speranzose che non siano gli ultimi giorni di vita. Sperare è il grande regalo che ci viene fatto dal sapere che il nostro futuro è Cristo, che in fondo al nostro cammino c'è Lui, c'è l'incontro con Lui e tutto cambia, tutto ritorna ad avere una speranza diversa, un modo diverso di essere affrontato. Allora noi vogliamo chiedere in questa Eucharistia di essere capaci di vegliare così, di essere persone che aprono il cuore alla speranza, che non lasciano spegnere questo lume che deve continuare ad ardere, perché se noi soffochiamo la speranza non ci resta niente, non ci resta niente. L'uomo senza speranza muore, soffoca e purtroppo questa cosa è un virus che si sta diffondendo. Se ho speranza è la speranza nell'immediato, in una cosa, in una conquista tecnica che mi risolve un problema, spero di arrivare in fondo al mese, spero di trovare un lavoro, tutte cose buone, sì, ma sono quelle che mi tengono in piedi, sono quelle che mi fanno dire che è bello vivere. Se sono solo queste in un attimo passano, mi tocca continuare a rincorrere le cose, se la speranza è incontrarmi con lui, chi me la toglie sta cosa? Nessuno, niente, neanche la morte me lo toglie, anzi, paradossalmente è quella che mi consente di realizzarlo. Non c'è niente che si frappone una volta che vivo questa speranza tra me e la gioia e se vogliamo possiamo accoglierla, allora chiediamo questa grazia in questa Eucharistia, di desiderare questo incontro e di tenere vivo a questa speranza.